E che è il mio colore? Ciao a tutti, bentornati a un nuovo video con Rim e Iva e io si! Oggi facciamo la sfida dei colori. Siccome siamo in tre, abbiamo scelto i colori della bandiera italiana. Facciamo lo shopping per comprare le maglie adatte e anche la spesa. Poi prepariamo insieme pranzo e merenda. E pittureremo un po' ognuno con il suo colore. Seguiteci per vedere tutto questo e altro. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao a tutti! Grazie 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 a tutti! Ok... molto carino! Grazie a tutti! e a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! anche se... e... 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 cos'è? e... 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 e...